Un patrimonio del valore di circa 3 milioni e mezzo di euro, due dei quali ritrovati addirittura in contanti conservati in altrettante valigie, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria ad un imprenditore nel commercio di carburanti. Indagini approfondite, quelle delle fiamme gialle, che fanno seguito all'operazione Andrea Doria, che portò alla scoperta di una presunta struttura organizzata, attiva nella vendita di prodotti petroliferi, il cui scopo sarebbe stato quello di evadere le imposte in modo fraudolento e sistematico attraverso l'emissione e l'improprio utilizzo delle cosiddette dichiarazioni di intento. In questo contesto l'imprenditore è stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere finalizzata alla Commissione di Delitti Contro il Patrimonio e per il reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalla finalità di agevolare l'attività dell'andrangheta, in particolare della Cosca Labate di Reggio Calabria. I finanzieri hanno ricostruito le acquisizioni patrimoniali nel periodo dal 2000 al 2020, verificando il patrimonio nella disponibilità dell'indagato, il cui valore sarebbe sproporzionato rispetto alla capacità reddituale dello stesso imprenditore. La sezione misura di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro dell'intero patrimonio aziendale, composto da tre società di capitali, delle quote di un'ulteriore azienda, un fabbricato, due terreni, beni mobili, rapporti bancari e finanziari e relative disponibilità.